Taranto e la Grecia Salentina insieme per un progetto che sembra aver raccolto la giusta considerazione. Secondo indiscrezioni delle dieci finaliste, le favorite al momento sarebbero proprio Taranto, Bari, L'Aquila e Procida. Hanno relazionato, oltre al sindaco Melucci, gli assessori Marti, Occhinegro e Manzulli, il dirigente del comune di Taranto Imperio, per l'unione dei comuni della Grecia Salentina, Roberto Casalucci, e il direttore dell'orchestra della Magna Grecia, Piero Romano. Un'audizione che sembra aver convinto la giuria? Guardi, io sono estremamente soddisfatto di questa audizione. Abbiamo mostrato tutta la nostra passione e il nostro cuore per il territorio. Veramente abbiamo portato avanti questi aspetti, quindi sia Taranto, ovviamente, il sindaco e tutti i suoi assessori, così come la Grecia Salentina abbiamo puntato sulla sincerità, sulla spontaneità e sulla passione veramente per la cultura e per il territorio. Speriamo bene. Credo che abbiamo dimostrato alla Commissione, soprattutto che a prescindere dall'aggiudicazione del titolo, noi porteremo avanti il progetto proprio sul cambio di narrazione, su uno sviluppo nuovo e alternativo con delle economie diverse. Sappiamo tutti che dobbiamo dimostrare noi per primi al Paese intero e all'Europa di essere capaci di valere molto di più di quello che ci hanno dato fino ad oggi. Devo dire che siamo soddisfatti perché abbiamo dimostrato di metterci non soltanto il cuore e l'anima, ma anche di essere concreti. Quindi abbiamo fatto capire alla Commissione che non siamo gli ultimi arrivati, che abbiamo un progetto serio non soltanto per il 2022, lasciatemelo dire questo perché è fondamentale, proprio un progetto serio per la città, per la ricostruzione culturale della città. Eravamo tutti molto molto emozionati, però consapevoli che questa potrebbe essere davvero una risorsa importantissima per il nostro territorio. Quindi ci siamo impegnati davvero al massimo delle nostre forze, abbiamo sentito la vicinanza della nostra città e quindi anche la responsabilità di fare una buona figura.